Ero e suo malgrado, tormentato da un nemico nascosto, Mr. MC si troverà proiettato al di là del tempo e dello spazio. Finirà così tra le grinfie di folli e santoni adepti a culti spietati nell'Egitto delle antiche piramidi, dove misteriosi fenomeni atmosferici trasformano la realtà in un incubo spettrale. Eccolo ora, protagonista di un duello al tramonto tra le strade polverose di una città del vecchio western. Tra ladri di cavalli e malfamati saloon, dovrà farsi strada con la legge del revolver. Testimone inconsapevole di atti criminali, nelle notti al neon di una New York violetta, tra poliziotti corrotti e malviventi senza scrupoli, come potrà evitare di essere vittima di una implacabile vendetta? Quale sarà il suo destino? Hai solo un modo per saperlo. Monclicca, su Monclicca. Ah, lui è il cattivo.